che ha premiato l'Oscar, Helen Mirren, che ha parlato soprattutto tanto del Salento e dei progetti futuri per questa terra. Vediamo com'è andata. Una serata scintillante grazie alle stelle sul palco e all'oro della Galatea Salentina. Il premio barocco del patron Fernando Carteni torna a casa nel Teatro Italia di Gallipoli per la 44esima edizione della Kermess che premia le eccellenze della cultura, dell'arte, della moda e dello spettacolo nazionale e internazionale, quest'anno condotta da Nathalie Caldonazzo e Attilio Romita. Rafael Gualassi, Maria Amelia Monti, Candida Livatino, Maurizio Mattioli, Rocco Barocco, Ilaria Cavo, il vice ministro Bubbico e poi star delle star attesissima sul palcoscenico gallipolino il premio Oscar Helen Mirren, eterea, elegantissima con una Miss Total White. L'attrice inglese ha acquistato qui una villa in cui trascorrere le vacanze ogni anno e dopo la statuetta più ambita al mondo per il film The Queen in cui ha interpretato la regina Elisabetta ora ha ricevuto il riconoscimento della sua terra d'adozione. La mare è bellissima. Io sono venuta qui e la notte io ero al mare e la grande luna, la luna grande, come si dice, full moon, full moon, and it rised up, it rose up over the water fa lì sopra il mare, la luna, and my heart was taken e il mio cuore è stato preso. Adesso per me, qui a Salento, c'è la verde delle ulive, c'è il rosso della terra, c'è la bianca della roccia e allora è la verde, la bianca e il rosso dell'Italia per me. Moltissimo grazie. E mio marito è molto triste che non possiamo essere qui. Lui ha lavorato in Hollywood a questo momentito, ma il suo cuore è qui con noi. Moltissimo grazie. Adesso io sono veramente salettina. Un premio è stato riservato alla categoria imprenditoria, assegnato anche all'editore di Telerama, Paolo Pagliaro per l'impegno nello sviluppo del territorio, per la creazione della Onlo Scuore Amico. Strenuo difensore, si legge nelle motivazioni dell'ambiente e delle tradizioni locali. Con la sua attività nel campo dell'informazione, egli ha saputo promuovere lo spazio territoriale attraverso tutti i canali della comunicazione, rinnovando l'immagine e amplificando il valore di ogni singola realtà cittadina. Con le sue battaglie a tutela del territorio, è riuscito ad accrescere il senso di appartenenza delle popolazioni locali, stimolando un maggior protagonismo e una viva città creativa nel settore della comunicazione sociale e politica. Per aver saputo trasferire nelle sue molteplici attività l'amore e la passione per la sua terra e aver contribuito a dare un'idea nuova e forte per il futuro del Salento. Meravigliosa la signora Mirro, veramente meravigliosa. Sentirli dire che io sono Salentina mi ha fatto accapponare la pelle. Complimenti, veramente grazie. Perché questa terra ha bisogno di una cabina di regia, perché è assurdo che un premio come questo sia stato abbandonato, dimenticato ed era diventato l'emblema di questo territorio del barocco. Questo dà l'idea, il segnale della disattenzione e della marginazione che si ha nei confronti del Salento. C'è una ferita che va rimarginata, perché in una notte non ci fu consentito di essere regione e se oggi fossimo stata una regione sicuramente questa terra meravigliosa sarebbe più ricca e potremmo pensare a un futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti che oggi purtroppo sono costretti a lasciarla e andare via. E noi salentini lo meritiamo appieno, il ruolo di protagonisti del nostro futuro con una nostra regione salente. Tutti hanno stretto, orgogliosi, tra le mani la piccola, preziosa scultura ideata e realizzata dal maestro di Anagni, Egidio Ambrosetti. Il premio barocco alla memoria è stato consegnato alla signora Chantal Borgonovo, vedova del calciatore Stefano. La serata è stata allietata dalla musica e dall'intrattenimento degli ospiti. A Mario De Janeiro, rivelazione di Zelig, al secolo Fausto Solidoro, agli Aprella Class e al cantante Francesco Caro Valentino è andato il Terra del Sole Award. Per fare questo evento ci vuole molto sacrificio, dicevo in conferenza stampa, tre sono le componenti amore, passione, abnegazione, altrimenti i premi se ne fanno tanti nel Salento, io li chiamo tutti i barocchini, tutti hanno copiato il premio barocco, tutti fanno premi ed è bello così. Io voglio ringraziare, permettimi prima di chiudere, la mia famiglia, devo ringraziare mia moglie, mia figlia, ma particolarmente mio figlio Andrea che ha abbracciato questa mia idea, questa mia croce, io dico, mio figlio crede in questo premio, io credo in questo premio perché la mia città di Gallipoli vada nel mondo, ma vi dico anche un'altra chicca, caro sindaco, ci sono altre amministrazioni, altri sindaci in sala che il premio barocco lo vogliono anche nelle loro sedi, forse studieremo un premio itinerante, vediamo con il mio sindaco che cosa ne dice quando ci riposeremo e poi riprenderemo il lavoro. Grazie, grazie Fernando. Tutta la serata con le emozioni del premio sarà trasmessa sabato alle 21.30 su Telerama. Ed ora cambiamo decisamente argomento questa mattina a Palazzo dei Celestini.